Mario e Vittorio Cecchigori presentano La faccia che mi riterò mi beccherebbero subito Eppure io vedo in lei una faccia da talpa E che fa la talpa? La talpa scava, scava, scava E quando la galleria è pronta fa il colpo della sua vita La bella gnocca è indispensabile Fondamentale, senza dire colpo non si può fare È ancora valida quella proposta che mi avete fatto? Certamente Ci sto Avemus gnoccura Questa cuffa mi piace moltissimo Sono venuta ad aprire un conto Qual è il suo nome? Monica Punto Monica Punto Ma che fai? Mi dai il nome vero? Che devi sangare? Con il bacco Con il bacco? Questa è un vaso di astra che non ho Questa è un bacco turco napolitano Sono venuto in Italia per portare la mia squadra a Andrei Svevcenco Minchia! E Gagliani glielo vende? Da, da, mu da, mu da Lo sei il? Cosa sta salendo? Siete nel resto? Carlo Pucci Rosso Valeria Marini Viaggio Izzo Enzo Iacchetti Max Pisu E con Ricky Tognazzi E Leo Gullotta Chambagne per tutti! In questo mondo di ladri Truffati si nasce Truffatori si diventa Ladri 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 Grazie.